Massimo Re presiede il comitato organizzatore dei campionati mondiali che saranno qui nel Lago Grande di Avigliana. I nazionali sono il test event di questa grande manifestazione internazionale? Sicuramente sì, più che altro sarà una prova per noi per verificare soprattutto la fattibilità del percorso che in vista dei mondiali non possiamo permetterci errori, però anche qui è già stato provato in questi giorni durante lo stage della squadra nazionale sia di piscina che di fondo, abbiamo visto che in ogni caso il percorso è perfetto quello che richiedono le regole internazionali, quindi siamo più che tranquilli da questo punto di vista. Oggi valuteremo un attimino l'effettiva validità facendo le partenze con numeri molto più consistenti di quelli di questi giorni quindi una gara vera e propria ci servirà per verificare che tutto funzioni al meglio. Qual è la caratteristica tecnica di questo percorso che ricordiamo ospiterà le gare di fondo di nuoto pinnato? Innanzitutto abbiamo fatto una buona scelta scegliendo Avigliana perché il bacino si presta benissimo a quello che è una gara di livello davvero mondiale, è molto tranquilla l'acqua, non ci sono correnti, il tempo ci sta aiutando in questo momento quindi anche la temperatura dell'acqua a 20 gradi non creerà nessun tipo di problema ai partecipanti, sarà un test vero e proprio. Abbiamo la possibilità soprattutto per quello che riguarda la posizionamento dei giudici di avere dei punti in cui possono stare anche a riva. è stato posizionato il percorso anche in funzione di una possibile e di una facile visibilità della gara su tutte le sponde del lago perché abbiamo preso i vari punti di appoggio dove ci sono ristoranti o circoli nautici, le due passerelle organizzate dal comune, messe in acqua del comune per le passeggiate sul lago sono la vicinanza delle boe di passaggio quindi la gara è visibile da tutto il lago quindi abbiamo curato anche questo aspetto ed è fondamentale per noi farlo vedere, dà la possibilità a più persone di vedere questa manifestazione.